Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 Dobbiamo presentare il prossimo talento che sta arrivando nella nostra postazione ospite della notte della capitale E sì, loro sono i Florida o nella fattispecie Siamo il rappresentante dei Florida Ovvero la voce, chitarrista e voce ovvero Ciao, buonasera, sono Edoardo Edoardo, l'altra volta Edoardo non è riuscito a intervenire in diretta Non siamo riusciti perché loro hanno fatto una cosa importantissima Perché hanno, dillo tu, dove eravate sabato scorso? No, quando era? Sì, sì, a San Lorenzo erano Eravamo alla serata di beneficenza in favore della LAV Ad estate San Lorenzo Abbiamo suonato noi il fluido rosa E abbiamo risposto ben volentieri alla chiamata della LAV Che è la lega antivirisezione per chi non lo savesse E ci siamo ecco adoperati per questa causa Esatto, mi raccomando gli animali, non si abbandonano Comunque noi ti abbiamo invocato lì nel collegamento Sì, sì, infatti sentivo Continuamente Ero presente nelle chiamate precedenti Le ho sentite, grazie Che ci canti questa notte? Un inedito tuo in diretta l'1 e 17 minuti Allora, la canzone si chiama Fuochi d'Artificio Perfetto Ti sentiamo come... Ascoltiamo l'estatto Fuochi d'Artificio Uno degli inediti dei Florida E tra l'altro è da chiedergli Ma quando sarete famosi Continuerete a partecipare a queste cose di beneficenza A titolo gratuito Come diremmo in un film di Thomas Millian A gratis Lo faresti ancora? Guarda, continueremo a partecipare a questo tipo di serate Che sia che diventiamo famosi sia che non lo diventiamo Ma già siete Voglio vedere Già sono famosi Bisogna vedere se diventiamo famosi Ma famosi che cosa significa a questo punto? Infatti, infatti non è Famosa anche lei magari dove lavora Non è quella la cosa importante Dipende per chi, giusto? Solo Emilia non è famosa Ma scusa, dov'è che si scatta il famoso? Quando un tot e un numero di persone ti riconoscono contemporaneamente? Secondo me il famoso scatta quando... Sentiamo in Florida come talento della notte romana Vediamo se siete famosi Allora, fuoco d'artificio Radio Radio by Night Roma Radio Radio by Night Roma Presenta i nuovi talenti della notte romana Ovviamente fuochi d'artificio? Plurale? Come fa ad essere uno solo fuoco? Sono tanti fuochi d'artificio Le persone importanti è una per volta Fuoco d'artificio? Dai, vabbè, ho sbagliato Fuochi d'artificio in Florida Guarda in su per vedere la vita Che fischiando passa sul mare E che illumina il cielo e le stelle Colorandole col suo colore Esplodiamo come razzi d'estate E cadiamo come pioggia ad aprile E decolliamo E poi giù verso il suolo Con fuochi d'artificio nel cielo Porta qui quel vestito sottile E la voglia di lasciarti andare Porta pure bottiglia e bicchiere E quella scia di buon odore E lo sai che ti vengo a cercare E lo so che ti farai trovare E io e te Nel momento più vero Come fuochi d'artificio nel cielo E ti amo fuoco al tempo Con me quello speso insieme E mentre brucia il giorno Noi bruciamo un poco insieme Noi bruciamo così bene Esplodiamo come razzi d'estate E cadiamo come pioggia ad aprile E decolliamo E poi giù verso il suolo Come fuochi d'artificio nel cielo Guarda in su per non vedere gli occhi Della gente che non riesce a sognare Ora riesci a sentirla la vita Che fischiando passa sul mare I Florida in diretta Ovviamente talenti ospiti di By Night Roma Di Ticapelin Sì, piccoli talenti crescono Abbiamo conosciuti, abbiamo fatti sentire in giro Loro avranno lavorato di per sé Insomma, non è che miracolo By Night Però stanno prendendo sempre più piede E fanno parte di numerose manifestazioni Intanto, Edoardo Perché non mi dici qualche contatto Facebook, MySpace Dove vi possono trovare Sì, in qualsiasi parte Noi vi possiamo cercare come Florida Allora, ci potete trovare su MySpace.com Slash Florida Italia Oppure per quelli di voi che hanno Facebook Potete cercarci su Facebook.com Slash Florida Italia Lì trovate tra l'altro Una sezione con discussione Richieste cd Quindi potete richiederci direttamente il cd lì E ve lo spediamo a casa Serate recenti Che dove possiamo venirvi a vedere La più vicina è il 20 luglio Al Contestaccio A via di Montestaccio A Roma Bello Contestaccio Radio, radio, by night Roma 104.5